La prima cosa è, devo trovare il modo, ora poi magari ci organizziamo, ma potrebbe essere che do le schede che vi ho dato, le faccio mettere in pdf sul sito dove ci sono anche le slide, oppure se non le trovate mi scrivete e ve le mando, così le potete provare in classe. Un'altra cosa, sul sito dell'università di Pisa, che ci tenevo a dirla, visto che sono responsabile della formazione dell'università di Pisa, e tipicamente all'università l'idea è quella di lavorare sulla formazione d'ingresso, il nuovo percorso che ci sarà, forse lo sapete, insomma, comunque formazione d'ingresso da sempre è abbastanza gestita all'università, assisti, FA, passe, eccetera, eccetera, non so quanti di voi siano prodotti di questa roba, ma ci abbiamo lavorato. Il mio crucio è stato quello di provare, vediamo cosa succede, a offrire un po' di servizio anche per la formazione in servizio. Ora, questa è una cosa che, quella di oggi, questi corsi qui sono, per ora l'università non c'entra, ma probabilmente al prossimo anno c'entrerà anche l'università, ma comunque vediamo. Quindi ho raccolto, insomma, in assemblea i vari referenti di dipartimenti e ho fatto anche un cambiamento sul sito dell'università, che è questo. Ora qui lo vedete in maniera diversa perché è visualizzato con lo schermo, comunque sulla destra, invece qui è in basso, c'è questa lista, studenti, e sotto studenti prima c'è la TFA, passe, eccetera, eccetera, c'è formazione insegnanti. Se cliccate su formazione insegnanti, andate a questa cosa che è università per la scuola, e c'è formazione insegnanti in servizio. Quindi, e ci metteremo tutte, speriamo più di una, di iniziative per la formazione in servizio di vario tipo, perché siccome ora giustamente me l'è stato chiesto per l'italiano. Qui, ad esempio, la prima che era partita è una, tra l'altro molto interessante, un ciclo di lezioni di educazione civica sulla Costituzione, anche abbastanza attuale. E le iscrizioni su questo sono chiuse, però i singoli incontri si può partecipare, quindi se vi interessa vedete, ci sono, un paio l'hanno già fatti, però ci sono sei incontri, e ognuno su una cosa. E ci verranno messe, spero, varie iniziative, spero, comunque, sicuramente ci verranno messi i seminari che faremo a matematica, che abbiamo già fatto l'anno scorso, hanno avuto abbastanza successo. Per il primo ciclo dovrebbero essere due, barra tre, diciamo, probabilmente più per il terzo, più per le medie, perché vorremmo farne uno anche per le medie superiori. E dovrebbero essere, tanto vi anticipo perché potrebbero interessarvi, il 31 marzo, l'ultimo giorno di marzo, non mi ricordavo se era 30 o 31, Il 31 marzo dovrebbe venire, sono ufficiose, ma dovrebbe venire la professoressa Maria Mellone di Napoli, che parlerà del pensiero proporzionale, l'avvio al pensiero proporzionale, sarà aperto all'infanzia, alle medie, tipicamente abbiamo un 200 posti liberi, si pienano abbastanza in fretta, quindi qui scriveremo come, eh? Qui quando l'apriremo li metteremo qui e uno si scriverà fino a che c'è posto. E un altro sarà, io immagino entro una settimana, insomma entro la prossima settimana, credo, a metà della prossima settimana. E un altro sarà il, dovrebbe essere il 20 aprile, dico bene Lucia, mi sembra di sì, 20 aprile verrà una persona, credo, molto conosciuta, sicuramente da tutti quelli che vanno a Castel San Pietro, che è Silvia Sbaragli, che viene dalla Svizzera apposta, e farà una cosa sulla geometria, sull'insegnamento della geometria, anche questo è un verticale dall'infanzia alla media. Poi stiamo cercando di portare qui, e probabilmente ci riusciremo, un pezzo da 90, che è una professoressa canadese, che però parla italiano, quindi la farà in italiano, che non è, che si chiama Natalie Sinclair, e però a lei probabilmente gli chiederemo una cosa per medie superiori, e lei dovrebbe venire il 20 marzo. In quel caso lì probabilmente non avremo l'aula grande, ma avremo l'aula magna, di matematica, che è un centinaio di posti, quindi lì secondo me ho beccato il giorno che si apre, se no è difficile trovare, però insomma questo interessa solo a quelli delle medie e delle superiori. Vabbè, comunque questa pagina qui, quella di Unipi, dovreste trovare un po' di iniziative, questa era per fare un po' di pubblicità alla pagina di Unipi, visto che l'abbiamo fatta. No, le cose del corso le trovate sulla pagina, ora guarda, la cerco subito, sulla pagina della normale, dei lincei, uno clicca su Google, lincei, matematica normale, Pisa, metto delle parole a caso, ma non tanto a caso, e poi dovreste arrivare qua giù, eccolo. E qui matematica valutare le competenze è il nostro, se uno clicca sul modulo, poi qui c'è slide del primo incontro, vedete qui. Ora, la prossima volta ci saranno slide del secondo e questo materiale che vi ho dato, insomma. Va bene? Ok, allora, torniamo invece alla nostra... Allora, veniamo alla discussione, partiamo dai quesiti di natura geometrica. Quanti hanno... Ah, una cosa che mi diceva giustamente Lucia, ma era stata una scelta. Volutamente non vi ho scritto, qualcuno lo sapeva, ma non vi ho scritto il livello, ve lo dico ora, non era una dimenticanza, era perché lo discuteste con meno pregiudizi possibili. Questo qui è di livello 5, del 2016. Qualcuno l'ha discusso questo, qualche gruppo? Ok, allora facciamo un po' un giro di... Marta mi aiuti col microfono, facciamo un po' un giro di... Poi raccolgo i vostri iscritti, ma prima discutiamo un attimo. Allora, questo quesito chiede, immagino di aumentare la lunghezza di ciascun lato, di due centimetri, qual è la differenza tra l'area del nuovo quadrato e l'area di Q? Ok, allora, quali... Quinta primaria? Quinta primaria. Non è un livello di difficoltà, eh? Il livello... In Valzi è il livello 2, che è seconda, livello 5, quinta, livello 6, non c'è più, ma c'era prima media, livello 8, terza media. Sì, è una giusta domanda, perché invece PISA, il livello 5, vuol dire molto difficile. Qui invece è il livello di scolare. Sì, ok. Chi è che vuole dire qualcosa su questo? Su quali difficoltà? Laggiù forse. Sì, arriva il microfono, così si sentono tutti. Ora parlerò più piano che... Vabbè, noi l'abbiamo fatto e... Cioè, l'abbiamo fatto, l'abbiamo, come dire, discusso, e ci siamo rese conto che il quadrato, messo così al centro della figura, e laddove si richiede di aumentare di due centimetri ciascun lato, questo ciascun per i bambini, vuol dire ogni lato. Ogni lato sono quattro, quindi loro tendono, come dire, a fare un quadrato grande, tutto intorno, perché allungano tutti e quattro i lati, invece ciascun lato, cioè vuol dire aumentare solo due lati, in modo che ti viene un quadrato che raddoppia. Non so quanto un bambino sia in grado di comprendere questo. Cioè, lui va avanti per le informazioni che ha... E quindi vi immaginate che loro, aumentando tutto di due, rispondano? Eh, rispondano aumentando tutto di due, viene quindi una sera di quattro, due, due dieci per dieci, cioè, gli viene un qualcosa che non esiste. 8 per 8, 64, non c'è, e quindi vanno in crisi. 64 per la differenza, quindi 64 meno 16, ma non c'è uguale. E quindi rimangono così, un po' turbati, perché non ritrovano il loro sapere, secondo me. Ok, grazie. Sì, cose diverse, ognuno che dica cose che non... che si ha trovato difficoltà diverse, processi diversi. Noi abbiamo pensato che i bambini tenderanno a indicare la nuova area, anziché la differenza, per cui che possano essere ingannati in questo senso. Quindi che scrivano 36, perché, ok, perché invece di calcolare la differenza, l'area. Quindi è una difficoltà, sono due difficoltà, diciamo, linguistiche per loro. Uno è il fatto che ciascuno vuol dire i quattro lati del quadrato, l'altro è il fatto che la differenza, non viene letta la differenza, indicano l'area del nuovo quadrato. Ok, questi due aspetti qui. Altri aspetti? Ok, e quindi quell'immagine lì che difficoltà, pensate che... E però rispetta la... E quindi poi sbagliano perché? A dare la risposta sbagliano, non sbagliano? No, proprio non riescono ad interpretare il testo partendo dalla parola immagina, perché c'è un discorso legato all'astrazione. Ok. Quindi non partono neanche. Ok. Ok. Altre cose? Sì, come dicevano, loro dicevano che non la considerano e quindi che... Ok, mi sembra che siamo venuti fuori o non la comprendono. Sì, o non la considerano o non la comprendono. L'uso dell'unità di misura, perché in quel foglio lì il quadretto non corrisponde a un centimetro, quindi se loro non usano la scala... Io non questo non lo so se sulla prova in Valci corrisponde oppure no. Devo dire la verità perché questo... Vabbè, però se noi glielo fotocopiamo in maniera casuale, quello lì non è un centimetro, se loro allungano davvero di due centimetri, l'area fuori gli viene davvero 36, ma l'area di quello lì non è 36 e non trovano il numero. Quindi questo è un altro aspetto nella nostra riproposizione. Si deve riproporre il fatto che la scala... Diciamo, ad esempio... Alle medie sarebbe interessante lasciarlo proprio con una scala indicata. Certo, certo. Però diciamo, è una cosa interessante che potrebbe essere anche superata dicendo un quadratino. Un quadratino. Quindi quant'è l'area? Otto quadratini quadrati. O otto quadratini. Levando proprio l'unità di misura, diciamo, per la primaria. Però è un'osservazione interessante. E un'altra cosa che secondo me... Queste tre cose secondo me sono veramente... Quella della scala non ci ho pensato perché appunto mi dà l'idea che invece della prova in valse originale non ci sia il problema della scala, sia proprio un centimetro. Però quelle due cose lì sono tra quelle più gettonate. Tra l'altro, una cosa interessante è il fatto che per analizzare a priori i quesiti invalzi, se sono quesiti del libri di testa è diverso, ma se sono quesiti invalzi, l'analisi a priori dei quesiti invalzi può aiutare il tentativo di spiegarsi perché sono stati scelti quei distrattori. Perché tipicamente i distrattori sono stati scelti in base a qualche tipo di pensiero. Ed è interessante il fatto che quella cosa che il ciascuno, che secondo me è un grosso dilemma, non venga presa dagli distrattori. Quindi, ad esempio, provare questo problema togliendo le risposte chiuse, probabilmente molti risponderebbero 64 oppure 64-16 e sarebbe interessante provarlo anche senza risposte chiuse. Un'altra difficoltà che probabilmente non viene fuori perché poi i bambini cominciano a capire le regole del gioco è il fatto che qui si dice di fare una cosa, non è ben chiaro, è proprio, secondo me, la tensione fra quell'immagine e fai, no? Perché io potrei anche allungare il lato, uno da una parte, uno dall'altro e due dall'altro. E la figura che mi viene fuori non è un quadrato a quel punto. E quindi, insomma, uno dall'altro due in avanti e far venire cose più strane. Insomma, ci sono bambini che disegnano cose strane allungando di due ma in maniera un po' strana. Ce ne sono pochi, però ci sono. Sì, sì, può darsi che il problema sia dello spazio. Comunque, diciamo, tutti questi problemi si possono ovviare perché gli si può dare più spazio, gli si può dare... Il fatto di, usa il termine immagina in maniera improrogabile. Quindi lui dicevi, devo immaginare senza disegnare. E non ho neanche lo spazio per poter ridisegnare e usare una strategia tutta mia, che poi invece è fondamentale, no? Trovare una strategia risolutiva funzionale, no? I bimbi sono abituati a questo. Noi almeno gli insegniamo a questo. No, no, sicuramente questo è un aspetto. Un altro aspetto che sembra, diciamo, poco significativo, ma in particolare con l'esperienza proprio su questo tipo di prove, che non è per niente poco significativo, è il fatto che un fattore, che appunto non ci penseremmo di difficoltà, è l'indicazione del quadrato. Perché quando il quadrato, qui non è detto il quadrato grigio, che aiuterebbe di più, è l'area di Q. Cos'è Q? Alcuni bambini, per alcuni bambini Q è il quadratino di 4, non il quadratino grosso. È dove è Q, insomma, è lo spazio in cui è Q. A noi non ci viene nemmeno in mente, ma spesso e volentieri, soprattutto nei primi livelli scolari, l'indicazione dell'oggetto di cui sto parlando non è banale, e quindi usare la colorazione forse è meglio che usare le lettere, in questo caso qui in cui si parla di aree. Comunque questo è un problema qui, perché l'abbiamo scelto, perché ci sono tutti questi aspetti qui e l'aspetto di ciascuno secondo me è uno dei più interessanti. Non so se qualcuno di voi ha provato a riformularlo per togliere questo aspetto qui, per togliere questo aspetto di complessità, perché sarebbe carino provarlo levando questo aspetto di complessità qui, perché appunto lo scopo non è quello di... L'abbiamo provato, però... Ah, ok. Ma lo scopo dell'invaso è di verificare il scopo. Ora su questo qui non l'ho segnato, comunque nelle guide ora posso andare a ricercarlo, cerco la guida, la cosa carina dell'invaso è che nelle guide c'è scritto qual è il loro scopo, quindi uno lo vede, ora su questo si può andare a ricercare, cioè qui abbiamo quel fascicolo, no lo cerco su internet semmai. Sì. Sì, qua giù avevamo cercato di cambiarlo in questo modo. Osserva la figura, aumenta la lunghezza del lato del quadrato di due centimetri. Poi rimaneva praticamente tutto uguale. E qui però se usi il singolare rischi che aumentino solo uno. Osserva la figura, aumenta la lunghezza del lato del quadrato. E infatti perché noi ritenevamo che la difficoltà fosse quel ciascuno che era forviante e ci chiedevamo quanto fosse voluta o quanto non fosse voluta. Cioè perché... Comunque a prescindere se è voluta o no, secondo me se noi troviamo una formulazione che in qualche modo loro comprendono, perché qui secondo me lo scopo, ora non ce l'ho qui, ho sbagliato, devo andarla a vedere effettivamente, ma secondo me lo scopo è di confrontare aree di oggetti. Non è quello di disegnare e capire che ciascuno è ogni, non c'è quello secondo me. Secondo me è confronto di aree. Ecco perché noi ci chiedevamo se invece si chiedeva anche, essendo bambini di quinta elementare, e conoscessero piuttosto bene le proprietà di alcuni poligoni, fosse importante conoscere il fatto della proprietà particolare di questo poligono regolare per cui tutti i lati sono uguali. Eh, il problema però... Noi ci chiedevamo questo. Questa può essere un'idea, però come dicevano chi l'ha detto per primo, se io interpreto ciascuno come ogni, mi viene sempre un quadrato. Non è che non mi viene un quadrato, se non mi venisse un quadrato allora io dovrei avere quel controllo lì, ma qui se io aumento di due, di due, di due, di due... Però facendo il disegno, se io conosco le proprietà del quadrato, a quel punto non mi... non vado ad allungare ciascun lato, ma ne allungo soltanto. Perché? Perché no? Perché io... No, questo non mi convince, non lo so, se io conosco le proprietà del quadrato continua a venirmi un quadrato. Sì, è vero, però io so che l'area del quadrato è lato per lato, per cui mi è sufficiente allungarne due. Eh, è sufficiente allungarne due, cosa vuol dire? Cioè, io lo so... Cioè, facendo un disegno, facendo scusamente un disegno... Però secondo me non dipende dalle proprietà del quadrato, perché se l'allungo tutte e di due continua ad essere un quadrato. Sì, è vero. Secondo me non è un caso che non ci sia 64 o meno 16, perché il vero controllo è lì, però non ha senso che il controllo sia quello. Cioè, non ha senso che il controllo sia... Non c'è la risposta che mi verrebbe. E quindi ho sbagliato. È quello che non vorrei. E invece è quello che spesso viene usato. Io cerco di evitare... L'esempio che faccio sempre, forse ve l'ho fatto anche l'altra volta, è quello della probabilità... Ve l'ho fatto a voi. Quello della probabilità. Quello del... È certo che fra sette giorni è domenica. No? C'era un esercizio sulla probabilità in VATS in cui c'erano vari frasi. Bisognava dire quale era vera sempre. E questo vera sempre si voleva intendere sempre in ogni momento, in ogni luogo, eccetera, eccetera. Allora, una di quelle da scartare era è certo che fra sette giorni è domenica. Nella scelta di è certo che fra sette giorni è domenica non era casuale. L'autora in VATS ha pensato se io metto è certo che fra sette giorni è martedì e la prova in VATS capita di martedì succede il finimondo. Perché tutti i bambini ti rispondono di sì. Quindi c'è questa specie di controllo che però noi non vogliamo. Cioè noi non vogliamo che un bambino dica no, non è la risposta giusta perché non è fra quelle quattro. Quindi secondo me il controllo su quella difficoltà lì viene fuori solo dalle risposte queste qui. Se ci levate queste quattro risposte qui secondo me molti fanno come dicono loro. Proviamo, andiamo a vedere. Comunque sì, anche con queste quattro qui questa è la percentuale di risposte giuste. Quindi praticamente 28% di risposte corrette. molto poco, molto poco. Vuol dire che ci sono... E io sono convinto che dal punto di vista del confronto di aree non c'è un problema così grosso. Il problema è di capire qual è l'oggetto nuovo. Qual è l'oggetto nuovo, ok? E quindi diciamo... Sì Ok No, senza scrivere cioè di 6 centimetri senza scrivere di 6 centimetri però tentare di fare una cosa del genere quindi disegna un nuovo quadrato il cui lato è questa cosa qui ma è diverso da dire aumenta il lato di 2 perché aumenta il lato di 2 sembra una cosa operativa io faccio quella qui ne aumento 1 e poi chiudo e viene un rettangolo se invece dici disegna un quadrato è un pochino diverso si potrebbero provare tutti e due secondo me nella vostra versione tanti disegnano un rettangolo ho questa sensazione mentre se lo dici esplicitamente cioè e l'altra cosa carina è il fatto che l'altra difficoltà secondo me è che qui immagina o non immagina si chiede di modificare una figura che c'è già mentre se chiedi di disegnare un'altra è diverso cioè tu c'è questa disegnano un'altra da un'altra parte poi confronta confronta le aree è ovvio che se la disegni qui tu poi hai anche la possibilità di rispondere contando quello che è più questo ti aiuta probabilmente dal punto di vista del calcolo però probabilmente ti confonde di più dal punto di vista invece della visualizzazione della figura che secondo me è il problema più grosso in questo problema se fai male quello poi è inutile contare i quadretti ok andiamo alla seconda di geometria girandola chi ha fatto la girandola? qui prima fila vabbè o là insomma facciamo il giro quali sono le difficoltà di questo? no no la prima difficoltà secondo noi è quella che a due quadretti corrisponde un metro ok per cui ancora quindi la lettura dell'unità di misura io a scuola l'ho riprovato mettendo un quadretto un metro e tutti l'hanno fatto bene ok mentre invece mi ricordo la prova in Valzi mi ricordo alcuni avevano capito che si poteva trasformare in una figura equivalente no? quindi eh però naturalmente non hanno poi fatto il calcolo giusto perché hanno contato i quadretti e non il fatto che quindi hanno risposto con i quadretti quadrati invece che i metri quadrati esatto e qui diciamo il problema che dicevano loro c'è per forza perché a parte i due quadretti e il fatto che sicuramente quello non è un metro ecco quindi nemmeno nella prova in Valzi altre difficoltà su questo? è questo ok allora qui qualcuno dice cioè secondo me su questo ci sono due due possibilità uno è quello di provarlo mettendo quello due metri invece che un invece che mettere un quadretto un metro mettere due e due metri o un quadretto un metro è ancora più facile due quadretto due metri ma così però come si diceva mi sembra con voi non mi ricordo con che gruppo così ovviamente si cambia la complessità matematica perché questo è l'elemento di complessità matematica quindi comunque è interessante provarla in questa nuova versione come è stato fatto qui perché se poi mettendoci un quadretto un metro tutti fanno bene allora individuiamo che il problema è esattamente quello della scala non è il problema geometrico quindi lavoriamo al limite sul problema della scala quindi provarlo con un quadretto un metro è comunque interessante questo qui poi secondo me è interessante perché come quello che avevamo discusso l'anno scorso del quadrato dell'area del quadrato secondo me vengono diverse strategie c'è chi calcola l'area con l'area dei triangoli c'è chi ricostruisce qualcosa c'è chi conta quadretti interi quadretti mezzi e quindi lì la discussione delle strategie fra di loro secondo me è interessante far venire fuori le varie strategie ok questo qui anche questo risultato difficilissimo queste sono il 21% risponde correttamente è di livello 5 anche questo è dell'anno scorso quindi è il 21% è 1 su 5 risponde bene veramente un una diciamo un basso una bassa percentuale la mia impressione è che su questo e quindi sulla sperimentazione uno potrebbe fare anche una sperimentazione in classe in cui mezzi li dà così e mezzi li dà con l'unità di misura cambiato su questo un ruolo fortissimo lo giochi anche la mancanza di tempo perché se faccio solo questo può darsi che se ne accorgano di più che è due quadretti un quadretto eccetera eccetera quindi il fatto di sperimentarlo non dentro la prova in valse in cui ci hanno 30 30 quanti sono in quinta ma questo e basta il tempo secondo me è una variabile importante è una variabile importante e a me è capitato a volte quando provo a fare le prove in valse per sfizio di sbagliarne alcune perché vado veloce e faccio esattamente i stessi errori che fanno i bambini perché magari non leggo andata e ritorno una volta mi ricordo che avevo letta andata e ritorno avevo calcolato solo l'andata ed è casco errore che facciano anche i bambini perché le facevo velocemente anche senza aver pressione del tempo questo è no però volevo andare prima scusate a quell'altro di geometria che è questo questo è quello della strada questo è quello della strada prima di chiedervi prima di chiedervi l'analisi scusate prima di chiedervi l'analisi questa è di terza media terza media però la cosa bella è che si può provare tranquillamente anche alla scuola primaria e i risultati sono un pochino migliori e uno potrebbe dire ma sono un pochino migliori perché in terza media sono più grandi in realtà non so se è così comunque i risultati sono questi risponde bene il 36% più o meno quindi comunque uno molto difficile rispetto a se lo valutiamo a posteriori risultato molto uno su tre fa bene in terza media quali sono secondo voi le difficoltà di questo? chi è che ha discusso questo? sì noi abbiamo detto ricavare l'informazione cioè il dato dalla leggenda che non si trova nel testo quindi collegare ok e il doppio percorso da calcolare fra le due locali fra Peglio e Abate insomma in questo caso perché le fa anda e rianda e quindi secondo voi non passano da Abate cosa fanno? lo calcolano una volta sola e quindi poi diciamo siccome i 52 non ci arrivi poi ripartono da Peglio secondo voi cosa fanno? fanno Castro Peglio di Abate e poi ripartono da Peglio ok altre difficoltà? di chi ha fatto qualcuno non l'ha fatto perché era in difficoltà ho sentito nei vari giri che però secondo me invece è il modo migliore per capire la difficoltà se siamo a difficoltà a noi io personalmente si ritengo un po' tontarella i 4 chilometri io ho avuto cioè devo far rientrare il tratteggio nell'unità di misura cosa devo fare? non ho capito allora qui viene fuori una difficoltà interessante che è il fatto che ci sia disegnato un percorso e con diciamo segni simili a quello della scala e quello che viene fuori è venuto fuori l'altro giorno forse questo no Lucia è il fatto che loro considerano la linetta l'unità di misura vedete questo è 52 diviso 4 sono 52 chilometri diviso 4 sono 13 linette e contano 13 linette lo mettono lo mettono qui quindi quel 4 chilometri è la linetta non è quello che deve andare a riportare ok questa è una difficoltà una difficoltà un tentativo che sta provando che sta provando Marta che è lei che sta facendo la tesi esattamente su questi aspetti qui di comprensione del test dei problemi dopo che è venuta fuori questa difficoltà in classe di Lucia è quello ha raccolto oggi i primi protocolli di darlo così di darlo così e vedere cosa succede allora se lo si dà così diciamo l'aspetto delle delle linette sparisce non c'è più questa difficoltà che è probabilmente la più grossa difficoltà però c'è un'altra difficoltà che è quella narrativa perché il il testo è piuttosto complesso e se uno si mette a leggere il testo qui sul testo diciamo consideriamo che appunto è pensato per bambini di terza media comunque la cosa interessante che veniva fuori da stamani è che se uno interpreta il testo in in maniera diciamo cioè quello che succede è che praticamente loro leggono il testo in maniera conseguenziale quindi seguendo il percorso indicato dalla linea tratteggiata sulla mappa Enrico parte in alto da Castro va ad Abate a prendere un amico e riparte con lui per andare a Santo Doro dopo aver fatto 50 km la partenza da Castro si ferma lungo la strada a due località allora molti di loro partono dall'amico partono da Abate a contare ecco io sto raccontando invece la difficoltà testuale lì è che fa riferimento alla partenza iniziale dice dopo aver fatto 52 km la partenza da Castro e allora la cosa interessante però facendo questo pensiero e poi leggendo si ferma lungo la strada a due località a fare rifornimento a un distributore di benzina e interpretandolo narrativamente quindi non matematicamente lo dice riparto da Abate e poi più o meno a fare rifornimento mi fermo nel mezzo e quindi segnano no ritornano indietro ritornano indietro comunque e si fermano questo è il mezzo sia partendo da qui più o meno sia partendo da qui quindi molti segnano questo con questa lettura narrativa e guarda caso è la risposta giusta e allora in tanti casi la risposta giusta è in realtà una risposta sbagliata e quelle di stamani mi sembra che ce ne fosse solo uno che risponde mettendo la crocetta lì ma contando i 4 km e non interpretandola narrativamente allora quello che si voleva tentare con lei era di cambiare i numeri in modo che la lettura narrativa e quella matematica non coincidesse cioè fossero due punti diversi però questo è veramente molto interessante perché oltre a quel problema lì appunto della tratteggiatura c'è il problema dell'aspetto narrativo del fatto che se tu interpreti quella cosa lì dal punto di vista di una storia in cui ti cali rispondi a prescindere dal diciamo dal riportare quel 4 km che tra l'altro è molto complesso riportare quel 4 km perché ci sono curve a U diciamo e quindi dove vado a finire con quel 4 km qui l'esperto giustamente se le do subito la parola l'esperto giustamente dice ma io voglio una cosa approssimata certo ma per noi esperti per un bambino questa è una difficoltà grossissima se io il procedimento non lo posso non faccio un procedimento approssimato il procedimento approssimato secondo me c'è qualcosa che non va non è tanto il punto che io poi sono largo nel valutare il margine di incertezza è che se io mi metto lì e vedo che qui arrivo qui col secondo 4 poi il terzo 4 mi arriva qua giù dico no ma forse non devo far così non è che penso la prossimo penso che ci sia un errore nel mio modo di procedere quindi secondo me questo fatto che devo procedere per approssimare e diciamo su questo ci sono un sacco di percentuali anche invalsi che tutti e anche di problemi tutti i problemi a qualsiasi età anche a quelle di seconda superiore che lavorano sulla stima danno grossissimi problemi cioè non su risultati esatti danno problemi perché loro non si sono abituati a quindi questo secondo me è un aspetto su cui lavorare molto il fatto di dare problemi in cui non vogliamo risultato 52 ma vogliamo risultato approssimato e su questi per esempio c'era quello del treno ti ricordi quello della lunghezza del treno tutti quelli in cui si chiede un'approssimazione loro entrano in crisi ma non perché non hanno le capacità perché non lo riconoscono come un problema non lo riconoscono come una risposta di un problema di matematica la risposta di un problema di matematica è soluzione però richiede dei tempi e una tranquillità per cui loro si possano esprimere sbagliare che noi non abbiamo più quindi io lo dirò diverse volte l'invalzi ci chiede delle cose e poi però però diciamo questo secondo me sul tempi si può ragionare però questo non è che lo chiede invalzi perché è nelle indicazioni nazionali lo chiedono le indicazioni nazionali e allora secondo me il problema è che invalzi come anche noi spesso in classe in classe probabilmente non si fanno perché non c'è tempo ma anche quando si fanno si fanno come cosa particolare in cui si dice ora facciamo un problema approssimato e invalzi uguale perché se invalzi se il bambino gli dai il problema di geometria e lui misura con righello non va bene perché il risultato è approssimato allora quando è che posso dare il risultato approssimato e quando posso dare il risultato giusto quindi lì uno è fregato perché in alcuni casi va bene l'approssimazione però non glielo dico in altri casi invece ci sono tanti casi nella geometria che loro prendono e misura con righello e ovviamente non gli viene il risultato come vorrebbe il problema perché il risultato vuole 52 e invece a lui gli viene 51,5 perché l'ha misurato con righello ha fatto i prodotti con righello perché lì non va bene di là sì chi lo decide e allora su invalzi secondo me ci sono ulteriori problemi in classe dipende da quanto io invece lavoro su questa cosa qui e do dei problemi di geometria e per esempio dico questo problema tu hai dato un risultato approssimato l'idea è della matematica del lavoro sul risultato approssimato io devo valutare intanto se sono capace di dare un risultato esatto e poi quanto sforzo mi ci vuole per dare un risultato esatto quindi quando do un problema di geometria in classe e mi viene un bambino che misura con righello eccetera eccetera da un risultato approssimato e un altro da un risultato esatto e il fatto che tu possa avere il risultato esatto è già uno stimolo per dire forse potevi pensare che era meglio andare in un'altra direzione però può anche darsi no perché io posso essere più sicuro allora lì c'è una discussione su qual è diciamo il risultato migliore è migliore quello approssimato con più sicurezza nei miei mezzi o è migliore quello esatto che però io non controllo perché magari applico delle formule a caso e lì secondo me in classe è il momento per discuterne se lo faccio sull'invalzi non lo posso fare perché l'invalzi lo decide a priori lui senza dirlo al bambino quando posso usarlo approssimato e quando invece posso usarlo esatto e secondo me questo è un problema grosso che però segnala e lo segnala ve lo dico in valsi pisa teams una grossissima diciamo carenza di abitudine a lavorare sul risultato approssimato cioè l'approssimato non fa parte della matematica su altre discipline va bene ma se mi dai un problema di matematica non ti posso rispondere circa qualche cosa ti devo dare una risposta esatta c'era il famoso problema che si fa vedere sempre sui problemi assurdi o sui risultati assurdi che è quello della corsa di John che corre i 100 metri in 17 secondi il miglior tempo di John è correre i 100 metri in 17 secondi quanto tempo impiega John a correre un chilometro e tutti i bambini rispondono 17 per 10 tutti fanno morire John John muore i bambini che rispondono in maniera diversa sono pochissimi e vengono visti in maniera e comunque sono dubbiosi che dice sarà una risposta c'è qualcuno che fa la tara dice circa tre minuti e mezzo va bene come risposta in matematica circa tre minuti e mezzo se tu gli avessi chiesto educazione fiscale ti avrebbero risposto quasi tutti circa tre minuti e mezzo qualcuno ti risponde più di 170 secondi è fenomenale però in matematica lo sanno che nel libro non c'è quella risposta quella lì risposta lì non mi sembra tanto matematica quindi lavorare su questo secondo me è come lavorare e su questo i libri test sicuramente non aiutano sull'altra cosa che era stata detta non mi ricordo da chi forse da voi l'altra difficoltà che è quella del fatto che c'è un dato fondamentale nel disegno c'è un testo complesso è un dato fondamentale nella figura anche questo è noto ormai da tutti gli studi tutte le elevazioni internazionali che anche i bambini grandi quelli del Pisa sono i quindicenni le figure sono di contorno mentre ad esempio tutti i problemi Ox e Pisa e l'invalso in Po prende da Ox e Pisa la figura fa parte integrante del testo perché se non guardi la figura però questo se ci fate caso è una divaricazione bestiale con i libri di testo in cui invece la figura soprattutto per la primaria è solo di contorno io disegno la paperetta disegno il bambino però non me ne frega niente è solo per far vedere che il libro è più bellino c'è un'immagine ma non è che il problema si risolve col disegno c'è una informazione importante nel disegno anche questo secondo me è una cosa su cui si può lavorare lavorando con problemi in cui invece la lettura del disegno è fondamentale ok torniamo a quello numerico che è questo vabbè vi ho già fatto vedere che questo è anche questo è considerato molto difficile questo è di livello 5 perché qualcuno mi diceva ma alla scuola primaria questo è col minimo con un multiplo la scuola primaria non si fa questo è di livello 5 eh? ma oggi correri una cosa simile eh ok è bene difficile o facile? non ho fatto ok vediamo cosa succede però diciamo qui quale difficoltà avete chi l'ha trovato quale difficoltà ha trovato ha individuato chi l'ha discusso non l'ha discusso nessuno questo? sì voi cosa avete detto? chi è? loro però abbiamo provato non lo so se è una prova in balsi secondo me c'è troppo poco tempo per poterlo risolvere perché altrimenti si può fare con tre linee del tè cioè tre linee di numeri mettendo il calendario i giorni della settimana e il numero dei giorni della settimana quindi uno lunedì cioè li fai partire li fai fare salti a un certo punto arrivano tutti e tre sul dodici però durante la prova in balsi non c'è questo tempo io non so in quale altro modo i bambini possano ok infatti questo qui diceva giustamente si può fare così ma lo faranno così anche i bambini oppure oppure no ci sono altre difficoltà che vedete in questo tipo di problema la domenica non si capisce se c'è la domenica o no è un problema è che se uno parte con i giorni va a finire la domenica si la domenica la parte si dipende da quando da che giorno parte uno dipende da che giorno parte uno e un problema grossissimo qui secondo me è nel 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 contesto perché il contesto è completamente realistico completamente realistico quindi quello che succede è secondo me ci sono due due maggiori approcci a questo problema a meno che uno non abbia visto problemi di questo tipo proprio simili la capisce che lo deve fare in quel modo lì con le linee eccetera eccetera ma se invece è un problema nuovo per i bambini il problema più grosso è che o vedo che la situazione è realistica e entro un po' in crisi oppure vedo che la situazione è realistica e dico vabbè della situazione è solo contorno quello che mi interessa sono i dati e li combino un po' fra loro e che infatti le risposte che ci sono sono dati somme di due somme di tre eccetera eccetera perché perché se voi in qualche e quindi qui la riformulazione secondo me sarebbe molto interessante riuscire a riformularlo bene non esiste che un lo sanno anche loro appunto perché si allenano che un bambino si alleni una volta ogni tre giorni il bambino si allena tot volta la settimana non si allena una volta ogni tre giorni quindi questa cosa qui non torna il fatto che e si allenano in un modo si allenano non torna proprio per fare problemi di questo tipo ci si sta pensando l'altro giorno forse la cosa più più realistica è quella di immaginare qualche cosa tipo catena di montaggio una macchina fa tre cose quell'altra ne fa quattro quell'altra ne fa sei però non è banale costruirlo questa costruzione qui secondo me è uno dei maggiori problemi non è il fatto matematico in sé ma il fatto che in realtà non lo capisco questo problema non capisco cosa sta succedendo se qualcuno gli viene in mente un modo per riformularla in maniera significativa secondo me viene fuori il fatto che se la riformo in maniera significativa riesco a a risolverlo vado avanti vado avanti perché insomma il tempo scorre il torneo il torneo quali difficoltà questo è livello 6 quando c'era ancora livello 6 quindi prima media prima media ovviamente è fattibile tranquillamente anche in quinta primaria alla fine della primaria quindi non non c'è problemi quali sono le difficoltà di questo che avete individuato rispetto a questo a questo problema chi l'ha discusso nessuno lui voi voi allora a livello difficoltà era intanto che secondo noi andava giunta un'altra casellina accanto in cui si dice vinto perso vinto perso e questo avrebbe potuto aiutare poi il fatto che bisognava sempre raddoppiare per cui che il bimbo doveva raddoppiare per cui diventa difficile arrivare al risultato finale perché o guardi la casella queste erano le nostre quindi diciamo questi due punti dovete completare una tabella seguendo quello che è successo e poi deve immaginare quanto avrebbe vinto se avesse risposto bene a tutte avesse vinto tutte le partite secondo voi è facile è difficile com'è? prima è difficile allora la tabella bene o male è abbastanza fatta non mi ricordo la percentuale ma più del 50% la seconda risponde bene il 29% quindi molto pochi molto pochi e qui secondo noi noi ci avevamo un po' già lavorato nel 2013 ci sono varie difficoltà dica dica è finale che è finale che via i bambini che li dà noia ok quindi se Gianni avessero in tutte le partite quale sarebbe stato il suo punteggio finale ok qui ci sono ci sono più giocatori anche questo è il punteggio di uno però sono tanti non è chiaro capito? ok la chiarezza diciamo diciamo ci sono vari aspetti vari aspetti che emergono il primo è il fatto che e veniva fuori da qualche risposta di bambino il fatto che non è chiaro cos'è questa cosa qui questo torneo qui come funziona cosa succede cosa non succede quindi è un problema di comprensione della situazione perché effettivamente se voi pensate a un qualsiasi gioco sport in cui c'è questa cosa qui perché giocano 5 che se perdere i giochi comunque alcuni bambini si fermavano prima insomma la situazione sicuramente non aiuta a ricostruire il contesto poi c'è un aspetto di natura due aspetti di natura matematica uno è quello di fare i conti e un altro è il significato di raddoppia di mezza che sembra immediato ma vi assicuro che è un problema la gestione di tante informazioni nella tabella il fatto che in realtà viene chiesto qual è il punteggio cioè il punteggio tu l'acquisisci alla fine della partita e invece c'è scritto partita 2 non c'è scritto punteggio alla fine della partita 2 nella tabella c'è una una cosa che è differente da quello che viene chiesto e in più nella parte finale c'è l'aspetto anche della gestione di frasi messe in maniera ipotetica che non sono più niente banale se Gianni avesse vinto e anche la gestione di queste non è banale però la cosa che rientrava di più nel nostro studio del 2013 era proprio quella del torneo cosa fosse questo torneo metteva in crisi molti bambini nelle risposte di molti bambini e allora abbiamo provato a riformularlo e vediamo ora cosa succede e se volete potete provare la versione di formula tanto ve le metto tutte pensando a una situazione più conosciuta dai bambini di quell'età lì e ci è venuto in mente che una cosa che potrebbe essere abbastanza fatta così è un quiz televisivo e quindi un quiz televisivo dove a ogni domanda risposta bene raddoppi il monte premi a ogni domanda risposta male dimezzi il monte premi quindi riempi la tabella uguale e poi dici Gianni alla fine dice chissà quanto avrei vinto se avessi risposto bene a tutto quanto poteva vincere al massimo Gianni e poi una abbiamo aggiunto anche una domanda ancora più difficile non so se si vede ma dopo ve le lascio è cambia le risposte cambia il monte premi di Gianni diciamo il monte premi di Gianni dipende solo dal fatto che ha sbagliato due risposte o dall'ordine delle due risposte se sbaglia le prime due invece delle ultime due e questa è una cosa ancora più interessante perché poi lì fanno per prove ed errori quindi questo è un'altra versione che uno può provare sia in quinta che in prima media che in seconda media insomma in quarta si può provare in tanti modi vediamo vediamo cosa succede una cosa carina che ci aspettavamo che però non incide sulla soluzione è questo dove era in prima media l'avevi provato Marta quello del monte premi è in prima media da dove venne è del dirello 6 si no ma l'avevi provato in prima media in prima in terza in prima in terza quindi quello che ha detto il monte premi era in prima si e una cosa che ci aspettavamo che non incide sulla soluzione ma che può dare delle difficoltà cosa voglia dire monte premi allora qualche bimbo oggi c'era un protocollo l'abbiamo visto velocemente perché l'ha raccolto stamattina che prende monte premi come l'unità di misura ha 100 monte premi 200 monte premi come se fossero euro 300 monte premi 400 monte premi però per dirvi che che sono sono fantasiosi sono fantasiosi ultimo ultimo è questo questo Sergio sale sull'autobus timbra il biglietto che vale per 90 minuti alle ore 9.04 scende in centro per fare spesa ritorna alla fermata dell'autobus alle 9.58 il tragitto fino a casa dura circa 10 minuti entro quanto tempo deve arrivare l'autobus perché Sergio possa utilizzare ancora lo stesso biglietto livello 6 2011 questo l'avete discusso oppure no si qualcuno voi cosa quale difficoltà avete trovato la prima difficoltà sono i 90 minuti e che senza la difficoltà perché loro devono capire che è un'ora e mezza ok quindi la difficoltà matematica matematica ok poi mi dai il fogliettino scusa dove abbiamo scritto poi il calcolo con le misure di tempo ok altra difficoltà matematica matematica queste due sono due difficoltà matematiche volute da invasco poi dopo il fatto che non è scansionato quindi le varie tappe ma alla lettura del testo che è un testo unico e quindi anche quella è una difficoltà e voglio dire una cosa noi non sapevamo di che livello fosse siccome noi siamo di scuola media ci siamo riferiti alla scuola media quindi questa è di prima media ma noi ci riferiamo a una terza media quindi queste difficoltà le vediamo comunque certo no infatti la cosa la cosa interessante è che e secondo me che conferma quello che stiamo dicendo qui che molto è legato anche all'aspetto di comprensione di comprensione sì non c'è a volte variabilità tra quinta primaria prima media prima media terza media alcune difficoltà continuano a sussistere nella maniera identica a quella di prima sì e poi no no scusi scusi e poi dieci minuti per arrivare a casa che non sono messi molto in evidenza e sono un problema penso quindi diciamo l'identificazione dei dati dei dati importanti sì sì lì c'era avevamo una delle difficoltà la prima difficoltà che ci è venuta in mente era riferita al contesto perché è una una situazione esperienziale che non tutti i bambini hanno e che è fortemente legata alla all'ubicazione certo perché io sono originaria di Milano e per me è normale continuare a guardare il biglietto quando scade i 90 minuti i milanesi sono favoritissimi sui vacci che le metropolitane le cose sono è risaputo infatti a Milano vanno benissimo i vacci però mi sono trasferita in un in un paesino in una frazione di Aulla e nessuno sa che cosa cioè che cosa è la metropolitana quando è uscito quello della metropolitana quanto dura quando arriva cioè hai voglia a contestualizzare a fare un'esperienza diretta a dei bambini ragazzi questo diciamo è secondo noi il problema più grosso tant'è vero che nella sperimentazione ed è quello che vi chiederei di fare anche a voi chi sperimenta questo chiedendo il perché nella sperimentazione che stiamo facendo alla fine chiediamo anche se conoscono se hanno mai preso l'autobus e se conoscono il biglietto a tempo e se spiegano cosa vuol dire il biglietto a tempo tra l'altro eh vabbè quello se sanno secondo me se sanno cos'è il biglietto a tempo non è quello il problema se ci fate caso io per esempio a Pisa esiste anche a Pisa il biglietto a tempo per esempio non lo so a me era venuto un grossissimo dubbio che cosa vuol dire che scade vuol dire che io devo essere sceso o vuol dire che io devo essere preso l'ultimo pullman allora siamo andati a vedere sul sito del CPT ed è ambigua anche la regola lì non si capisce cioè l'idea è che in realtà devi scendere però c'è scritto che se lo devi prendere entro 90 minuti e poi allo scadere devi timbrare un altro biglietto non è chiarissimo non è chiaro nemmeno quello cioè se io riesco a prendere 90 quindi anche in questo caso qui l'interpretazione di questo vale per 90 minuti secondo me può dare adito a due risposte giuste quindi la risposta giusta è che basta che arrivi entro 90 minuti se io salgo sono a posto che tra l'altro probabilmente non è non è quella della regola del biglietto ma forse è la più sensata perché io se salgo sul pullman e poi magari ritrovo un incidente siamo fermi lì non ho biglietti cosa faccio devo scendere cioè non mi torna tanto io il pullman per fortuna lo prendo poco perché mi dà noia quindi preferisco andare a piedi in bicicletta però ecco secondo me vedi tu dici la salita secondo me leggendo le regole invece è che devi scendere entro 90 minuti oppure devi timbrare un altro biglietto c'è scritto così e poi c'è scritto però che al termine di 90 minuti devi timbrare un altro cosa vuol dire non lo so ma anche le regole sono allora provarlo provarlo e poi sentire questa cosa qui no quello che diceva la collega qual'esperienza hanno di questo tipo perché questo qui è un classico problema che secondo me la conoscenza enciclopedica conta tantissimo una persona che lo usa regolarmente un bambino che lo usa regolarmente non ha problemi a capire poi magari ha problemi come dicevano colleghi a fare il calcolo o a trasformare 90 minuti in un'ora e mezzo possono avere problemi di questo tipo ma non ha problemi a capire la situazione io immagino che la maggior parte di quelli che hanno risposto male qui che sono circa il 47% sia invece perché non capiscono cosa vuol dire quel biletto a tempo ascolta Pietro c'è stato un bimbo stamani che a un certo punto mi ha detto ma che domanda è entro quanto tempo dice sono 90 minuti eh sì sì infatti entro quanto tempo dice 90 minuti da quando la tembrale cioè non trovava il senso di tutto il discorso e in effetti una delle cose che abbiamo pensato di cambiare è dire a che ora non dire entro quanto tempo a che ora deve arrivare a che ora deve arrivare è entro cioè parlare su questo in un protocollo stamani è stato carino perché c'è scritto non ha tipo non ha senso dire a che ora deve arrivare entro quell'ora quell'ora lì però cioè non a che ora perché il pullman non può arrivare a quell'ora lì deve arrivare prima di quell'ora lì entro quale ora facendo risposto tanti hanno risposto entro ok allora siccome è l'ora qui vi faccio vedere che appunto avevamo messo vedete la domanda abbiamo cambiato un po' il testo facendo anche più complesso ma poi avevamo messo adesso ti faccio una domanda personale non matematica hai mai sentito parlare di biglietti dell'autobus che hanno una scadenza a tempo come quello che usa seggio del problema se no se si prova a spiegare come funziona se no prova a spiegare quello che ha capito di come funziona avendo letto il problema perché questo ci dice tanto sul come hanno risposto se sono coerenti con l'idea di biglietto che hanno allora compito per la prossima volta trovare uno o più di questi problemi secondo me anche quelli a risposta chiusa anche levando la risposta chiusa chiedendo di giustificare poi se volete prima della prossima volta condividerli condividere le cose che sono uscite con me me le mandate e io le guardo molto volentieri così si discutono anche e poi si discute anche una griglia di valutazione che oggi non abbiamo discusso la griglia di valutazione faccio solo un inciso perché è tardi l'idea è quello di trovare degli indicatori che pensiamo siano indicatori di qualità per noi indicatori di qualità ne potremmo trovare molti diversi ognuno potrà averne di diversi perché se chiedo di spiegare perché io devo avere degli indicatori di qualità anche sulla spiegazione non solo sul risultato corretto sbagliato che è un indicatore se volete può essere un indicatore di qualità abbiamo visto che a volte il risultato corretto non corrisponde a un processo di pensare significativo e viceversa il risultato sbagliato corrisponde a un processo di pensare significativo ma poi sull'argomentazione cosa valuto io quanto chiaramente hanno fatto quali conoscenze hanno messo insomma cercheremo di trovare alcuni indicatori per poi valutare i vostri i protocolli che raccoglierete ok arrivederci grazie 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 grazie